Su un aereo che sta volando ci sono tre amici, un francese, un inglese e un italiano. Dai finestrini non si vedono altro che nuvole. Il francese mette la mano fuori dal finestrino e dice qui siamo in Francia perché ho toccato la torre Eiffel. Gli altri due non riescono a crederci. Allora l'inglese non vuole essere da meno, mette la mano fuori dal finestrino e qualche secondo dopo dice qui siamo in Inghilterra perché poco fa ho toccato il Big Ben. Gli altri due restano sbigottiti. Adesso tocca all'italiano che non vuole fare brutta figura con i due amici. Mette la mano sinistra fuori dal finestrino e cinque secondi dopo la riporta dentro e dice madonna del Carmine qui siamo a Napoli. Che hai toccato? chiedono gli altri due. Niente, lo so perché mi hanno rubato l'orologio.